Di sanità nel Sannio se ne parla da mesi in modo negativo da quando c'è molte zone non sono più coperte dal 118 con un medico a bordo. E questo purtroppo ha prima sollevato le polemiche di molti sindaci e poi si è trasformato in una lunga serie di tragedie potenzialmente evitabili. Stavolta farne le spese una donna di Cusano Mutri, deceduta durante i soccorsi. L'ambulanza 118 del Flop South di Cerretto Sanita effettua interventi senza la presenza del medico negli orari notturni ed è purtroppo in questa fascia oraria che nei giorni scorsi si è consumato il dramma della paziente deceduta durante i soccorsi. In questo caso l'ambulanza attivata in codice rosso giunge rapidamente sul posto in circa 15 minuti ma purtroppo è senza medico e la paziente è versa in gravi condizioni. L'equipaggio sollecita con urgenza la presenza del medico per fare una diagnosi e impiantare immediatamente la terapia salva vita. Minuti preziosi che aggravano le condizioni della donna così quando arriva l'ambulanza rianimativa da Benevento per la signora non c'è nulla da fare se non constatarne il decesso. Ben tre mezzi in movimento quando prima era sufficiente solo la medicalizzata dell'OPS South di Cerretto Sanita per garantire cure appropriate e tempismo. Cambiano le persone perché questo non è il primo caso che si verifica ma il copione è sempre lo stesso. Nell'occhio del ciclone poco tempo fa era finita la zona del fortore, un problema a cascata che riguarderà anche tutti gli altri distretti del Sannio.